Fossombrone c'è e c'è anche il comitato per la promozione del centro che per la stagione dei saldi estivi ha in serbo tante iniziative per rendere vivo e attrattivo il cuore commerciale di Fossombrone, Corso Garibaldi. Gli eventi che abbiamo creato partono da sabato 4 con la notte dei saldi, è una serata molto importante perché avremo tre concerti lungo Corso Garibaldi e poi partiremo tutti giovedì fino a fine mese con degli eventi dedicati ai bambini, il primo giovedì, poi avremo il secondo giovedì che è la notte cubana, l'altro giovedì ancora avremo la serata anni 50. Il 30 di luglio avremo la grigliata, una grigliata in cui alcuni esercizi forsembronesi in collaborazione con dei ristoranti metteranno in piazza il meglio che c'è della carne e del pesce nostrano praticamente e tutti coloro che vorranno potranno aglietarsi con le degustazioni che metteremo a disposizione. Oltre alla visita certamente ai nostri negozi è molto bello a Fossombrone visitare anche le varie strutture, museo, quadrerina, infatti quest'anno insieme noi Forum Shopping abbiamo messo le varie forze anche con l'ufficio IAT che quest'anno rimarrà aperto tutti i giorni. Per noi crediamo molto in questa situazione perché Fossombrone è un bellissimo centro commerciale, però la gente che ci viene a trovare, vari turisti, hanno possibilità di visitare anche quello che ci hanno lasciato i nostri nonni, bisnonni e i nostri romani. Abbiamo iniziative importantissime che vanno dal Forum Shopping Natale, il Carnevale Storico al quale avete anche partecipato, il Carnevale Allegorico, la festa del tartufo bianchetto e adesso durante il periodo estivo dal 4 di luglio fino al 6 di agosto è fondamentale per il rilancio turistico, sociale della città e di tutto l'entroterra.